Siamo nel bellissimo borgo di Belmonte Calabro ed è in corso la 45esima edizione della Sagra da Pasta di Siti, una manifestazione che è nata qualche anno prima che fosse istituita la Prologo, che nel 1977, quando la Prologo è stata istituita, ha pensato bene di tramantare questa bellissima usanza che è il pranzo di nozze di una volta. Il pranzo di nozze di una volta a Belmonte consisteva nel piatto di pasta condita con sugo di pecore dannata. Ancora oggi noi prepariamo questo squisito piatto utilizzando una procedura che è quella antica. La pasta e la carne insieme al sugo vengono cotte nelle quadare, nei grossi pentoloni di rame e sotto ai tre piedi, ai tripidi, c'è come potete vedere benissimo il fuoco, quindi viene cotta a legno. Dall'anno scorso abbiamo lanciato lo slogan gustiamo calabrese, quindi tutti i prodotti che noi utilizziamo sono prodotti calabresi, addirittura alcuni belmontesi. Il sugo della nostra pasta in effetti è costituito da salsa di pomodoro San Marzano e del nostro meraviglioso pomodoro di Belmonte. Naturalmente ne ha acquistato in sapore perché abbiamo ritrovato gli antichi sapori di una volta. La serata sarà alietata dalla musica coinvolgente di Carmine Sangeneto, campione di organetto. Insieme a lui si esibirà il suo gruppo e questa sera abbiamo un ospite d'eccezione, una bravissima cantante e ballerina Angela Bianco. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.